Salve, salve a tutti, buona vita, buona vita a voi, buona vita a tutti. Sapete che cos'è questa? Sai che cos'è questa? Sai che cos'è questa? No, non lo sai. Ma questo lo sai che cos'è? Questo è questo. Lo sai che cos'è? No, non lo sai. Allora, cominciamo con il tuo appena. Ma, aperto. Sai che cos'è questa? Come si legge? Doppio, allora, doppio concentrato di pomodoro. Questo è licopene, licopene, licopene. Tu che cosa vuoi? La farmacia è a prenderlo, alla mia salute. Mamma mia, gnam gnam. Uno dice, ma come lo fai? Semplice. Aspetta, vediamo se si vede il tavolo di lavoro. Aspetta che ne bevo un altro po'. Questo è il tubetto. Quando ne metto? Ne metto un cucchiaio, più o meno. A otto, così. Devo schiacciarlo bene per non perdere niente. Costa un sacco, un sacco. Quasi un caffè. Cacchio, non ti vergogni. Quasi un caffè. E con questo te ne fai come minimo tre, quattro bicchieri. Guarda. Si vede, sì. Uno, due. Ah, ce l'ho messo pure dell'aria dentro. Ok, più o meno, così. Va bene? Dopo di tempo. Metto il sale. Io il sale ce l'ho anche qua. E ce l'ho anche qua sul tavolo. Sale marino. Quanto ne metto? Io ne metto così. A un bicchiere. Va, più o meno. Buono. Adesso mi bevo quella perché devo fare un'altra. Devo finire questa perché non devo fare un'altra. Si vede che bevo, no? Bisogna tirare la telecamera che sennò questi dicono che lo butto. Mmm. È buonissimo. Ora vi metto sempre di questi tubetti, dopo mi rimangono due tubetti cominciati, però mi finiscono, non ti preoccupare. Devo andare a comprare altro. Perché li ho finiti, ne avevo di più. Ecco, più o meno così ne metto. Tanto ci sarà un cucchiaio. Un cucchiaio è qualcosa. E qua ne ho ancora a bere due o tre volte. Metto il tapino. E metto il sale. Più o meno, dai, più o meno così. Il sale. E l'acqua. Vediamo se mi brucia. L'acqua calda, metto io. 50 gradi circa, però. Adesso non ci do. 50, non. Vi faccio vedere come si riempie il bicchiere, perché sennò dopo dite che ho fatto hocus poco se il bicchiere si è riempito da solo. Qualcuno mi cerca. Non appena finisco. Niam, niam. Metto l'acqua. E finiamo. Va bene. Mescoliamo bene. E dopo lo bevo con calma. Ecco, tre minuti che ho fatti. A che cosa serve l'icopene? A che cosa aiuta? Cosa fare? Lo dico ai miei clienti seguiti. Diciamo così. Io ne bevo e non muoio. La cosa che mi ha incuriosito di più, prima quando avevo una dita, era un italiano di... Voi sapete che cos'è un italiano? C'era un italiano di Bologna, che è parente di Brodi. Ero amico di sua mamma, che aveva un sacco di lette e cose varie, un ex dentista. E questa aveva una fidanzata cinese. Quando andavamo al bar a prendere il caffè, cacchio, quella si prendeva sempre questa. Capito? Suppo di pomodoro con un po' di sale. E dopo mi sono messo a studiare un po' dei vantaggi dell'icopene del suppo di pomodoro. Buonissimo. Io vi dico, voi questa non fatelo da solo. Vai con il tubetto di farmacia e vai dal tuo medico di famiglia e dici, dottore, posso fare per avere l'icopene questa? C'ha dei fetticolaterali su di me? E il dottore forse ti darà diritto di bere acqua così, fatto con passata di pomodoro doppio, come abbiamo detto qua, vabbè che adesso l'avevo fatto, doppio concentrato di pomodoro. Va bene? Vai a chiedere al tuo medico di famiglia, non fare di testa tua. Anche in bagno, chiama prima di tirare l'acqua. Ciao.